Sala di rappresentanza del Comune di Bolzano gremita per la presentazione da parte del Sindaco Renzo Caramaschi e del Direttore Generale Andrea Zeppa di una prima elaborazione di quanto emerso nei numerosi incontri per la stesura del Piano di Sviluppo Strategico Idee 2025 del Comune Capoluogo. Un processo di partecipazione pubblica che ha visto 178 rappresentanti della società civile partecipare a 16 incontri dei quattro cantieri territorio cultura sociale ed economia. Questo è consigliato dall'Unione Europea è un affiancare l'amministrazione a sollecitare le forze intelligenti quelle attive della città per integrare il programma che l'anno scorso abbiamo elaborato per completarlo, per vivificarlo, fa parte degli strumenti di programmazione di una città e credo che il documento unico di programmazione arricchito con i nuovi obiettivi suggeriti dai cittadini possa essere un buon viatico per lo sviluppo della città. Un processo che si è posto l'obiettivo di formulare un quadro coerente ed idee strategiche per lo sviluppo della città nel medio lungo periodo che andranno poi ad alimentare ogni anno gli strumenti di programmazione e gestione del comune di Bolzano. Caramaschi e Zeppa rispetto alle varie proposte formulate hanno sottolineato con piacere come vi sia sintonia e identità di vedute rispetto al programma di governo. Sono tanti i temi di interesse emersi nei cantieri. Le priorità sono tante e tutte importanti, il cantiere del sociale, il cantiere dei trasporti, della mobilità, dell'economia, del sociale sono tutte priorità. Siamo una società in forte evoluzione quindi i trasporti, la mobilità con Bolzano Sud per fare in modo di diminuire il traffico e quindi dovremo studiare e già si sta studiando con la Sasa nuove metodologie di collegamento con progetti di care sharing e sovvenzionati dall'Unione Europea. Questo è alleggerire il traffico privato per andare a lavorare a Bolzano Sud. Nel complesso 63 sono gli indirizzi di carattere strategico e politico per la città emersi dai contributi. 151 le singole idee correlate agli indirizzi che devono essere valutate secondo efficacia e praticabilità tecnica e finanziaria prima di entrare nel ciclo della programmazione dell'amministrazione. Sulla base dei risultati presentati in seduta plenaria sarà elaborato il piano di sviluppo strategico Idee 2025 che sarà validato dalla Giunta Comunale e quindi discusso in consiglio e condiviso con la città nei prossimi mesi.